Rispondendo ai precedenti quesiti, ho già illustrato le prospettive per l'Alitalia e ruolo svolto dal Governo. Ricordo quindi che si condivide la preoccupazione per il destino dei lavoratori, ma al tempo stesso che non è perseguibile alcun intervento diretto dello Stato e indiretto nel capitale della società. Confermo l'impegno del Governo, dove effettivamente l'impresa delibererà di richiedere all'amministrazione straordinaria a procedere con la massima tempestività all'apertura della procedura e alla nomina dell'organo commissariale straordinario. Con il compito di provvedere alla gestione dell'impresa e di predisporre ed attuare un programma che consenta una gestione conservativa dell'insolvenza ai sensi della legge Marzano.